Cari amici, oggi celebriamo un anniversario davvero speciale. Il 3 agosto del 1778 veniva inaugurato il teatro alla Scala di Milano, uno dei teatri più famosi al mondo, noto come il Tempio della Lirica. Con un'opera appositamente alcomposta per l'occasione di Antonio Salieri, il teatro ha aperto le sue porte a un'emozionante avventura nel mondo dell'opera, del balletto e della musica classica. Progettato da Giuseppe Piermarini, questo magnifico edificio sorge sulla chiesa di Santa Maria la Scala e può ospitare circa 2000 spettatori. Da 245 anni questo teatro ha accolto alcuni dei più grandi artisti internazionali, portando magia e bellezza alle sue splendide salve. Segui questo canale per altre novità sull'Italia. Ciao!